hola 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 hermosa hola che tal yo soy Elvira pero tu puedes llamarme El y bienvenido a este nuevo video ASMR en español para ti para ti para ti para ti para ti hoy estoy aquí para hacerte dormir como siempre porque porque esta es la hora de dormir hora de dormir de dormir de dormir estoy aquí con varios sonidos sonidos que sé que te gustan sé que te gustan sé que te gustan porque lo has comentado muchos 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 me han dicho que les gustan los sonidos que voy a poner en este video además hice una pregunta en mi Instagram de que sonido te gusta y muchísimos casi el 90% de ustedes me han descrito un sonido en particular que después te voy a mostrar así que ahora hermosura ponte auriculares para oír mejor porque el audio de este video es binaural de oído de oído a oído y empezamos para oír mejor si y que no il sonido che molti mi hanno parlato è la verità è che non lo esperava però è la broccia e anche la brocchita è roccia come io ho ho tutto rollo rollo a mi mi piace questo color e a ti e anche questa campagna questa campagna è hermosa mi piace mi piace mi piace mi scrivere il nome nei commenti di questo video quindi il nome più lindo che mi piace mi piace con il nome che ti piace e anche il nome che a mi mi piace va a ganare lo che mi piace e lo che a mi mi piace e questo anche vamos a vedere chi gana come se va a chiamare questa campagna qui ho la brocchita e anche 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 due parole due parole cosquillose come il cosquillo e il chac chac come la tijera ciera gli occhi e anche ci ci se ci 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 perché questa è ora di dormire ora di dormire, che hermosura ora di dormire scusca 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 cosa si se escossa bene e tu come stas, hermosura? spero che molto bene, molto bene perché ti lo merecesi, già sai te lo merecesi perché sei una buona persona, io lo sai e tu puoi, tu puoi con tutto, tu puoi tu puoi e qualche cosa, tu puoi io lo sai anche se piensa che non però la verità è che sì, tu puoi e tu puoi e lo sai ademass, ora quita quita los pensamientos mentiros perché è la ora di dormire 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 che di dormire che 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 come ti ha detto il giorno? a me molto bene sono molto bene spero che tu anche spero che tu puoi sorridere sapete anche perché? perché 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 si sonrìes prima di dormire vas a fare sueños più lindos più lindos più lindos però non così lindos come tu perché perché tu eres una hermosura è differente però magari se escucha i miei video se escucha a lui ves a fare sueños hermosi qui qui tengo un altro brocchio questo è un pixel è un pixel può andare più dentro della oreja ancora mi equivoco quando parlo bene vamos a escuchar questo è sembra al sonido è un sonido è un sonido forte che la luci e la luci e la luci e la luci e la luci Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. come... con questa...